Musica Parlando di Europa e di solidarietà nel lavoro, lo spettacolo che facciamo questa sera è proprio centratissimo. Musica Fa parte della mia storia di musicista quello di usare la musica come veicolo di idee oppure di accostare la mia musica a dei temi di interesse comune, di interesse sociale o storico o letterario. Musica Restiamo più umani perché mettiamo il nostro dolore, quello di essere senza lavoro, quindi senza un pezzo grosso della nostra identità in un discorso comune. Musica 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 Musica